La seduta di ieri sera del Consiglio Comunale di Accireale, come al solito trasmessa in diretta da T.R.A., ha ripreso il dibattito sul depuratore. Dopo l'inizio della discussione sono stati presentati un atto di indirizzo e due ordini del giorno. L'atto di indirizzo a firma dei consegneri Baldi di Mauro e Finocchiaro riguardava il referendum già annunciato. Il primo ordine del giorno, firmato dai medesimi consiglieri, impegna l'amministrazione comunale a dare mandato agli uffici per istituire una cosiddetta area di compensazione fiscale per le comunità urbanizzate, limitro fallare di localizzazione del depuratore, qualunque essa sarà, prevedendo l'esenzione totale dell'imposto di depurazione e una riduzione delle imposte locali. Il secondo ordine del giorno, firmato da 15 consiglieri comunali, primo firmatario il consigliere Raneri, invita gli uffici tecnici a individuare altri siti per il depuratore, compreso quello di Femmina Morta meno quello di Rocca di Polano. I due ordini del giorno sono stati approvati e in entrambi i casi lo schieramento che sostiene il sindaco Nino Garozzo è andato sotto.